Ciao a tutti! Eccoci finalmente, siamo tornate, eh? Vero Maggie? Maggie che fai, saluti? Ciao a tutti! Allora, un po' di tempo è passato, la Maggie mi ha portato via tutte le energie, sono dedicata la settimana tutta a lei, però eccomi qui. Il posto ormai lo conoscete, oggi c'è una sorpresa però, si cucina fuori. Il sole è veramente meraviglioso, a Roma si sta una favola, ovviamente la prima Pasquetta al sole perché siamo tutti dentro casa, era matematico, no? Che dire, ormai siete abituati, si comincia sempre con un brindisi, quindi io non posso fare altro che brindare a voi, augurare a tutti buona Pasquetta, mi auguro che nonostante tutto abbiate passato un'ottima e serena Pasqua e siamo pronti per preparare le nostre lasagne, cin cin! Allora, il grembiule c'è? Come vi ho detto ieri, io in realtà ho già preparato, sì Maggie, sì, ho già preparato i ragù ieri sera, vi ho mandato anche qualche foto, per chi lo dovreste preparare, ricordatevi, semplicemente un po' di soffritto, io lo faccio con scalogno, carota e sedano, lo faccio rosolare insieme ad alloro e aglio, appena inizia a friggere un po' e a prendere colore, aggiungo la carne tritata, lo faccio andare per qualche minuto e subito dopo aggiungo la passata di pomodoro e immancabile un po' di basilico e un pizzico di sale. Il risultato? Beh, ve lo mostro, eccolo qui, questo è il mio ragù. Gli altri ingredienti che andremo a utilizzare sono questi, un po' di parmigiano, sfogliavelo, io utilizzo questa qui, ma naturalmente potete utilizzare quella che volete, io aggiungo la mortadella, bechamel, c'è anche ovviamente immancabile quella senza lattosio e non ci manca niente. Se non, mandarvi un bacio, ecco Anna, ecco Selene, ciao 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 ciao, siete pronti? Partiamo! Allora, iniziamo. Per praticità io utilizzo la famosa teglia usegetta, ce ne basterà una quindi l'altra la possiamo togliere. Partiamo e mettiamo un po' di ragù sul fondo, diamo una mescolatina, mamma mia, peccato che non potete sentire il profumo. Allora, cerchiamo di scostare un po' l'allero e iniziamo a versarne un pochino così sul fondo, ecco qua, piano piano, ok, in questo modo, cercando di ricoprire un pochino tutto il fondo per evitare che poi si attacchi alla nostra sfoglia. Tranquilli, tranquilli, dopo vi faccio vedere tutto. Ecco qua. Ecco, in modo proprio semplice, così. Adesso non ci resta che andare a prendere la nostra sfoglia. Io scelgo questa per due motivi. Mi piace che sia sottilissima, ma naturalmente ci sono le ruvide, ci sono tante soluzioni. E il bello di questo è la praticità. La mettete qui e non c'è bisogno di cuocerla prima. Magari, se come me qualcuna la trovate rotta, passate a quella successiva. Tanto in realtà un pacco è decisamente tanto. Quindi, facciamo così. Regolatevi voi, in base ovviamente anche alla teglia che avete, per fare poi le varie forme. Vedete, per esempio, io le dovrò andare in questo caso a dividere. Maggi, ecco qua. Orientativamente una cosa del genere. Ripartiamo con il nostro sugo. Spennelliamo tutto sopra. Allora, parliamo di trucchetti. Se come me siete pigri e non vi va di preparare la bechamel a casa, potete tranquillamente comprarla. Io, vi dico la verità, ho sempre utilizzato questa qui e mi sono sempre trovata benissimo. Naturalmente però sapete che sono intollerante al lattosio. Quindi, ho cambiato e vi saprò dire com'è questa. La proviamo insieme. Allora, in su, il segreto però, è quello di aprirla. Vado a prendere le forbici, aspettatemi. Maggi, fai tu compagnia. Vieni. Maggi è la mia ombra ormai. Vero Maggi? Maggi è seduta? Maggi è seduta? Brava Maggi! Allora, mettiamo semplicemente in una scodella ecco qui la nostra bechamel. in questo modo. E dite, vabbè, ma fino a qui lo potevamo fare anche da soli. Sì, sicuramente. Però, il trucco non è questo. Il trucco ve lo mostro adesso. Allora, impariamo a usare anche un po' il sale. Che vuol dire? Significa che di sale ce ne sono tanti e anche di particolari. Per esempio, per esaltare il gusto della bechamel è ottimo. Questo sale qui. Sale blu di Persia. Che io, vedete, andrò a mettere in porzione un pochino generosa. E in mancabile un goccio di pepe. Ovviamente non mi aspetto che a casa abbiate questi ingredienti. Quindi non vi preoccupate. Potete usare il sale normale o ancora meglio il sale rosa. Vi aiuterà a esaltare un pochino di più i sapori, ma senza andarli troppo a coprire. Mescolate bene. Vedete? Mi sa che non mi sentite e mi dicono cameraman, tu hai controllato il volume, sì, al massimo? Sì, dice di sì. Il cameraman, signori, purtroppo è pasquetta e quindi ce l'abbiamo. Speravo andasse in ferie e invece niente. Ma è una gioia. Allora, vi potete, se avete dei dubbi e non sapete se avete messo la dose giusta di sale, che fate? Questo. perfetta. Lo sapete, tanto che va da occhio. Vi armate di cucchiaio e iniziate a versarla un pochino in questo modo. Così. sentitevi un po' dei piccoli giotto, ecco. L'effetto è un po' questo. Maggie, dici la tua. Cos'è che non ti è andato a genio? Allora, io metto sempre un po' di parmigiano in questo modo. Ma protestare, sai? Che fai? Protesti, Maggie? Maggie, sto aspettando le lasagne, che vi credete? Allora, il sugo l'ho messo, la bechamel pure, il formaggio anche, io aggiungo sempre un pochino di mortadella, che potete mettere o a fettine intere, Maggie, oppure a pezzetti, come preferite. Io per dare il sapore un po' più uniforme e far sì che il cada su tutto, le faccio un po' a pezzetti, così, con le mani, molto semplici. Tanto andremo a fare diversi strati, quindi non vi preoccupate, finirà un po' dappertutto. Quello che non sapete è che in realtà, giustamente, non è colpa di Maggie, ma come ogni volta, è colpa di chi? Del cameraman. Perché per fare le riprese, abbiamo John Wayne qua, che ha deciso di arrampicarsi. Quindi, naturalmente, il cane sta giustamente protestando. Maggie! Ok, a questo punto. Il risultato è questo e noi possiamo ricominciare con la sfoglia. Quindi, un'altra sfoglia e, come vi ho fatto vedere prima, l'altra in questo caso a metà. Per me, che devo... Ok. Perfetto. Ripartiamo. Quindi, ragù, nel frattempo Maggie penso che ci stia sabotando la cucina esterna, ma non è un problema. Maggie, che stai facendo? Si è nascosta. Allora, mi raccomando, quando preparate il ragù per la lasagna, lo dovete preparare leggermente più liscio. che significa? Significa che deve essere con una leggera quantità di acqua in più perché vi servirà per la cottura. Anche perché tenete conto che il forno asciuga come tipologia di cottura. Quindi, se lo fate troppo ristretto, rischiate veramente di compromettere un po' il risultato finale. Ecco, io ho ricoperto tutto e ricomincio. Ricomincio dalla mia bechamel, eccola qui. Naturalmente va a gusti. Se vi piace un po' più sugosa, abbondate ovviamente con il ragù. Se vi piace invece equilibrata, cercate di dosarvi piano piano e di fare un po' un po' tra la bechamel e il ragù. Se vi piace quasi più bianca e quindi leggermente sporcata di sugo, abbondate di più con la bechamel. via al parmigiano e a questo punto andiamo a rimettere i nostri pezzetti di mortadella. Se vi stancate troppo potete semplicemente andare a mettere le fette intere. una cosa del genere per capirci. Maggie! Esci di lì! Il gioco preferito di Maggie è diventato quello di nascondersi dietro le basi. Maggie! Vieni! ecco qui! Perfetto! Il secondo strato è fatto. Quindi andiamo avanti e facciamo il nostro terzo strato. Allora, quanti strati? Bella domanda! Quello lo decidete voi in base a quanta sfoglia avete, quanta pazienza avete perché facete anche quello e soprattutto in base all'altezza anche della vostra teglia. E poi, in base ai gusti, se vi piace molto spessa continuate a fare molti strati. Se vi piace non eccessivamente alta vi potrete fermare più o meno a tre strati. Decidete voi piano piano. alla fine in realtà il concetto è quello sempre di ripetere gli stessi passaggi. Il trucco vero della mia lasagna sapete qual è? Ve lo mostro, Ho capito. Volete vedere? Venite. No, non è questa. Aspettate, aspettate. Eccomi qui. Allora, il trucco vero della mia lasagna è che io ho le mani ok. Un bacio a Giulia è questo qui, ovvero il forno a legna. È inevitabile, cuocendola lì ha completamente un altro sapore. Però, l'ho sempre cotta nel forno a 200 gradi dentro casa e vi garantisco che viene strepitosa lo stesso. Ricordatevi, magari dopo un po' di coprirla con dell'alluminio per non farla bruciare sopra. Ok. perfetto a questo punto io faccio l'ultimo strato quindi di nuovo la mia besciamella mi provate di tenerne sempre un po' per fare la parte alta a questo punto Che dire, volevano venire a vedere anche loro la mia ricetta per la lasagna, mi pare ovvio, no? Allora, qui abbiamo quasi finito, ecco qui, non ci resta che fare l'ultimo strato, l'ultimo strato fate un po' attenzione perché sarà l'unico che sarà leggermente diverso, allora ripiediamo la nostra sfoglia, ok, la posizioniamo qui, mettiamo tutto il sugo che c'è rimasto, in questo modo, so che in realtà tanti voi di voi l'hanno preparata ieri la lasagna, quindi noi aspettiamo più che altro le foto per sapere come è venuta la vostra. Ecco qui, Maggie. Andiamo a ricoprire tutto con il nostro bel ragù, o come dice mio nipote, agù, che ne va decisamente matto. Vabbè, in realtà lui si mangia tutto, perché c'è qualcosa che non gli piace, però sono fortuna. Allora, una volta che abbiamo ricoperto tutto, questo sarà il nostro ultimo strato, quindi se prima vi si tagliate di cucchiaio, adesso armatevi di forchetta. Eccola qui, e spennellate in questo modo. Un po' all'agiotto, insomma. Abbiamo così fatto, eh? Parmigiano. E che dire? Ancora un goccio di parmigiano, corro! Maggie, corri, corri! Vieni, Maggie! Vieni, Maggie! Maggie, in realtà sta aspettando e soprattutto sta sperando che tutto è giusto. Venti a lei, anche se siamo un po' in anticipo, Maggie, per il pranzo, eh. Allora, a questo punto, la mia masagna è pronta, non mi resta che metterla nel forno. Quindi, ultimo brindisi a voi, pronta per farvi gli auguri di Pasquetta, ancora una volta, e salutarvi tutti. Cin cin, a presto, ciao!